Ehi, io di me oggi ti faccio vedere vuole fare quale... Metti il lievito... Non importa, vai, metti dentro il lievito... Ok, mettilo... Prima mettete il sale... Mettilo, fagli vedere come si mette il sale... Tutto... Bravo... Poi il lievito... E tutto qui... Tutto... Bravo... Poi cosa ci mettiamo? La pallina... Prima l'acqua... Ehi... Mi guarda... Bravissimo... Oh oh... Stai tagliando un patino d'acqua... Non importa... Oh oh... Non ti sei arrabbiata questa volta... No, non mi sono arrabbiata... Adesso cosa bisogna mettere dentro? Cosa bisogna mettere da peffare il pane? Cosa manca? No... No... E poi? E poi? Poi... No... Io... Aspetta che per la pallina ti aiuto... Vai... Bravo... Adesso... 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 Ora ti metto i temi di lennono, perché ti fanno molto bene. Bravissimo. Bravo. Ma ora dovrebbe essere... Ora ci metto un pochino di olio. Pochino, eh? Ma tanto! E tanto! Io voglio fare un panone enorme. Vieni. Ma gli oli ce ne vuole poco. Non ci sono. Cosa stai asciugando? È l'acqua di tempo. Beh, fra tu! E, lo, cha, 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 cha. Cha, cha, cha. No, 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 no. Ma lo potete sfacciare? No, 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 no. Lo potete fare l'acqua di... No, 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 no. No, 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 no. E poi lì dentro lo mettiamo con i semi di lime e 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 i semi di chiave. Surya, puoi spiegare adesso cosa devono fare con tutti quegli ingredienti? Dove li devono mettere? Dentro? No, 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 io l'ho spiegato, e poi lì qua, lì qua. No, qui c'è una lima, che è birra. Dirati questa qui? Si, me la ricordo. Questa birra? Eh. E facciamo dei bagni, capito? E poi tira, tira, tira. Ho capito. E poi dopo facciamo... Ma non le totale di queste lime, perché quelle che hanno un giorno viste, l'ho usato. Sono vere. Quindi stavano... E devono avere. E devono ora. E devono... Come la possiamo accendere? Stavano accendere. Stavano accendere. Non ti preoccupare. Vai attenzione a questa, perché... Vai attenzione a mettere la fila, perché questa può girare da un minuto. Va bene. Acqua! 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 La, 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 la. La, 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 la. Ma è succedendo a fare la cheapina. vuole le pala mi piace un tuit vegetariamo un tuit Non so, io amo un punto Capito? Un tweet Su, Ria, cosa devi dire? Etto qui Etto qui Etto qui Ha un buon profumo? Sì E poi è pronta Buon abisiccio